sapete perché tante auto hanno il doppio scarico? vieni che ti svelo questo segreto voi dovete sapere che quanto avete un problema quando avete un problema con la radio tipo in questa maniera qua che non prende vedete che non prende adesso ti svelo come devi fare ti occorre della semplice spugnetta qualsiasi colore bianca grigia non importa il colore ti basta solo una spugna anche quella che usi per lavare i piatti io l'ho già ritagliata in pezzettini vedi sono già portato un po avanti e a te questi questa spugna devi semplicemente inserirla nei cosi perché devi fare così guarda metti una qua una qua guarda come la inserisci vedi vedi che prende se io se io stacco la stacco guarda perde subito il segnale perché la spugna e trattiene trattiene tutte le diciamo le microonde che arrivano nel veicolo se io lo rimetto funziona direttamente guarda vedi cioè proprio è fatta apposta quindi dovete usare la spugna per fare questo questo lavoro qua quindi non andate dall'elettrauto che devi spendere un sacco di soldi grazie a questo trucco che ti ho appena svegliato ora sì che ti puoi vantare con i tuoi amici radiofonisti